Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi parliamo della nota di sviluppo di Racetroom e del roadmap. Come sapete l'ho abbandonato un po' perché il titolo lo devono aggiornare, quindi nessun ranking, la grafica, l'audio va bene, e poi questa fisica è sempre uguale. Sempre uguale nel senso che non ho mai sentito miglioramenti, anche quando avevano ingaggiato uno specialista per quanto riguarda la fisica che ha rielaborato le GT3, sappiamo tutti che fine ha fatto. Ma adesso che Racetroom è stato acquisito dal famoso rivenditore di pezzi per tuning tedesco, sembra che le cose si stiano muovendo, cioè sono riusciti ad avere dei feedback molto positivi da esperti e piloti che hanno identificato delle problematiche relative a che cosa? Ha certi comportamenti di auto, ad esempio macchine troppo statiche in frenata, questo retrotreno posteriore che è troppo su dei binari, e quindi hanno sviluppato un nuovo modello di gomma, il Tyrell Model V5, che dovrebbe uscire a dicembre. E questa collaborazione con questi ingegneri di pista, con questi piloti, ha dato frutta a una ricerca intensiva, appunto, per cercare di sviluppare al meglio questo modello. Ci sono già dei feedback positivi rispetto a quello che era stato l'uscita del Porsche Pack 2023, anzi dello sviluppo del Porsche Pack 2023, dove erano stati identificati questi problemi, e quindi a quanto pare questa nuova fisica piace. E questo per noi che cosa vuol dire? Che figo ragazzi, vuol dire che ci ritroveremo probabilmente con un Racetroom rivoluzionato, e quindi di conseguenza più piacere e godibile. Inoltre, dicono che avrà un impatto davvero importante per quanto riguarda l'esperienza di guida, cioè stiamo parlando di una maggior connessione con la strada, un comportamento più realistico del veicolo. Bisognerà rivedere la propria frenata sul Racetroom, proprio perché sarà necessario avere un controllo e una finezza proprio in questa fase critica della guida, proprio la frenata. I piani futuri per questo modello di pneumatico però non si fermano perché il tire model V6 è previsto per il 2024, con ulteriori miglioramenti basati su dei dati ricevuti da niente poco di meno che Falcon Tire. Quindi ragazzi stiamo parlando di uno sforzo che Racetroom sta mettendo sul tavolo per migliorare il suo prodotto. E di questo sono veramente contento perché potrei cambiare totalmente idea che ho adesso rispetto a Racetroom, perché no? E poi più ci sono titoli meglio. Non sono mancati e non mancano comunque i problemi sullo sviluppo del back-end del gioco, hanno riscontrato delle problematiche e quindi saranno un po' di ritardi sul rilascio di nuovi contenuti che proporranno. Per far fronte a questo hanno anche assunto un nuovo sviluppatore back-end proprio per rinnovare l'applicazione, quindi chissà che non ci sistemino anche la parte grafica. E in più per chi usa Racetroom sa che ci sono problemi di transizioni tra il portale e Steam stesso e quindi stanno cercando di migliorarlo. Quindi sono tutte notizie molto molto interessanti. Nei piani futuri oltretutto c'è da segnalare il fatto che stanno lavorando per migliorare l'interfaccia in modo tale che sia più godibile e che scoprire i vari contenuti sia più facile. Ed inoltre stanno lavorando ad un'esperienza multiplayer classificata, che questa manca assolutamente. Quindi i piani futuri sono molto interessanti per noi. Ovviamente l'invito del team di Racetroom è quello di unirsi al Discord ufficiale proprio per avere ulteriori informazioni ed aggiornamenti. Ragazzi queste notizie fanno sempre piacere, bisogna solo aspettare per testare queste novità. E chissà, come dicevo, che non ci migliorino veramente la grafica e non sarebbe tanto male. Ah, e stavo dimenticando, visto che siamo in tema Black Friday, i ragazzi di TZ SimProject offrono il 10% di sconto sui prodotti Camus. Vi lascio qua, da qualche parte. Se questa notizia ragazzi vi è piaciuto vi invito a lasciare un pollice in su, lasciate un commento, ditemi che cosa ne pensate. Noi ci vediamo prestissimo. Ovviamente iscrivetevi al canale. Da Fabrice è tutto, un abbraccio. Ciao.